ladies and gentlemen all your people this is show the bellicasabellimia iscrivete al canale abbonate al canale proprio se non vi piace quello di come dire il canale è un momento della democrazia è come lo sviluppo effettuato dal matador oppure dalla normalità di avere terremoti a new york vi lascio fare come vi pare bellimia oh cioè non vi abbastava la moto che è quasi da buttare pure il terremoto mi avete mannato portate un guerrieri vostro oh basta e e che caspita allora ragazzi se non sapete che è il matador è un ragazzo che deve quello un ragazzo un piccolo essere che è umano che sta aspettando lo sviluppo cioè è all'artezza è più basso del bassotto de napoleone e fa tanto er coatto quello che dice vorrei la pistola per sparare agli infami alle guardie dei lasciali a merda caro matador già la scelta del tuo nome mi è da 104 perché è come se io iniziavo a cantare e mi facevo chiamare il pupone o il principe sicuramente tu non sai chi era il principe un grandissimo giocatore quindi fai pure il co è come quelli che vanno a zoccole vanno i coccole capito come ragazzi e complimenti complimenti matador a ciampino bravo speriamo che qualcuno ti parli io spero che anche in curva sud se lo vedono lo sfondano io spero proprio questa cosa comunque dopo aver dato anche troppi minuti a sto soggetto in ricerca di sviluppo domani è il derby ho sentito la la conferenza stampa del mister pre derby l'ottanta per cento non mi è piaciuta però forse so io che so io che sto in questo momento mio storico belli gigini signorini viziatini signorini accompagnati da menti sposate con menti nucleari che c'è proprio di un livello di oh io so come siete alcuni di voi lo so perché lo so perché lo so oh eh so finiti eh chicchetti chicchetti so finiti eh eh non c'è più niente da fare eh avete mandato tutto a puttane quest'anno vediamo almeno se ci avete un po' di palle un po' di attributi se ci avete un minimo d'amor proprio perché loro saranno cattivi loro ehm loro saranno vogliosi perché la loro lotta è molto più importante di quella che stiamo facendo noi sempre per merito vostro eh lilletti che dire ci avete ci avete palle o no eh no perché poi dopo mi fate pure dubita dei primi secondi e terzi e quarti geniti eh oh lì lì eh e non c'è sta provvedendo che manca non c'è niente cioè a me potete pure perdere perché l'ho detto ieri eh però voglio voglio che cambi il colore su quella maglietta nostra se perdi male eh perché se no altro che la camilluccia eh perché poi quindi onore a chi andrà domani in minoranza noi saremo qui sempre a sostenere la maglia e il simbolo ah poi ho letto uno che mi dice se i giocatori vedono i tuoi video questa è tipica del laziale che parte sconfitto ma vattene a fanculo pure te sto coglione ha fatto tre messaggi e ha detto 104 208 e 312 ciao raga noi voliamo all'artistriscia no e brrrr shakerà New York shakerà a